Ciao ragazzi, questo video è per ringraziare un amico che a un certo punto mi sposto un romanzo, chiama amici di persone, fratelli persino, Manuele che ieri siamo sempre interessati di mio fratello Manuele, niente, presento questa canzone che è praticamente il seguito di quello che ha fatto mio fratello visto da me, e vieni, la sua canzone è amplificata con una mia canzone, con un vocal di un'artista molto conosciuta, brava, e amplificata con un booster di TikTok, mi lascio al pezzo, buonissimo. e buon ascolto. Ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti